Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un parco inclusivo per bambini con disabilità. Verrà realizzato a Garrufo di Sant'Omero grazie ai fondi regionali ottenuti dal comune per 25.000 euro a fondo perduto. Il nostro è stato uno dei quattro comuni ad ottenerlo della provincia di Teramo, partecipando al bando della regione Abruzzo, finalizzato alle attività ludico-sportive con disabilità. E' un altro grande e importante traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione. L'area individuata dall'ente ha già di per sé una vocazione sportiva ed è situata in una zona lontana dallo smog cittadino. Abbiamo individuato come area il parco dello sport di Garrufo, in quanto si presta molto bene per la disponibilità dello spazio ed è situato in una bella zona verde, tranquilla, lontano dal traffico e dalle strade. L'amministrazione, guidata dal sindaco Luzzi, intende lanciare un doppio messaggio, quello di vicinanza alle famiglie con bambini disabili, ma anche di sensibilizzazione per l'intera comunità nel segno dell'unità e dell'inclusività sociale. E' importante guardare al disabile come ad uno di noi che deve stare al centro della nostra cura e premura che è anche al centro dell'attenzione di tutti, soprattutto delle istituzioni che devono fare la loro parte ed è un obiettivo di civiltà che la nostra amministrazione sta perseguendo. Ci stiamo impegnando, ogni giorno stiamo lavorando affinché nessuno resti indietro.